Ciao a tutti, sono Gianluca Bottoni Ciao a tutti, sono Andrea Cioffi Ciao a tutti, sono Michele Drago Ciao a tutti, sono Francesco D'Amilia Ciao a tutti, sono Andrea Salomone Ciao a tutti, faccio questo video perché tra poche settimane mi trasferirò negli Stati Uniti per giocare a calcio e studiare presso un'università del Connecticut Volevo ringraziare College Life Italia per avermi aiutato durante quest'anno a superare tutti i diversi step e soprattutto mi ha aiutato ad ottenere questa grande borsa di studio all'Università di Kansas City in prima divisione Con questo video volevo ringraziare tutto lo staff di College Life Italia che mi ha dato la grande opportunità di trasferirmi in America infatti tra pochi giorni partirò per gli States dove inizierò il mio nuovo percorso accademico e sportivo presso la Rockhurst University in Kansas City grazie ad un'importante borsa di studio Da agosto lascerò l'Italia per partire negli Stati Uniti e intraprendere una nuova avventura sia dal punto di vista accademico che dal punto di vista sportivo Tutto questo grazie a College Life Italia che mi è stata vicina ogni giorno per superare i vari step necessari per intraprendere questa nuova esperienza Da agosto andrò a studiare in Università degli Stati Uniti e tutto questo lo devo a College Life Italia che mi ha dato un'enorme mano in tutto il processo sia dall'inizio che alla fine verso la parte burocratica e mi darà questa grandissima opportunità di crescere sia dal livello umano sia a livello sportivo che a livello accademia E tra pochi giorni avrò inizio la mia nuova avventura negli Stati Uniti Non vedo l'ora di confrontarmi in un ambiente completamente diverso sia calcisticamente che culturalmente Un grazie speciale va assolutamente a College Life Italia che grazie al loro aiuto mi ha permesso di ottenere questa borsa di studio E volevo approfittare per ringraziare tutto lo staff di College Life Italia che mi ha dato un aiuto fondamentale nell'ottenere una borsa di studio sportiva senza la quale non sarei mai riuscito a trasferirmi negli Stati Uniti Grazie mille e ci vediamo in America Un abbraccio a tutti, grazie ancora a College Life Italia e ci vediamo negli Stati Uniti Inoltre volevo fare un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che inizieranno con me questa nuova avventura Ciao a tutti e ci vediamo in America Grazie Grazie